C.S.M.T. Un ponte tra ricerca e industria. Curiamo processi gestionali per essere competitivi. Lean Management per tendere all'eccellenza. C.S.M.T. Troviamo risorse per sostenere le buone idee. Accompagniamo progetti innovativi per migliorare la vita di tutti noi. Creiamo network aziendali. Sinergie di innovazione. L'innovazione è ecosostenibile. Uno stile di vita dove vivere con serenità. Vogliamo essere un punto di riferimento. Un punto di riferimento per tutti. Perché innovare significa creare certezze. Il lavoro. La famiglia. Per la nostra storia. Con tenacia e determinazione. Per la nostra memoria. Credendoci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quasi minuti. Grazie a tutti